vai a cagare perché vai a cagare deve essere un insulto se ci pensiamo per uno stitico sarebbe una cosa molto bella nel senso vai a cagare lui si ci vado con piacere mentre per uno che invece è lubrico cioè incontinente e no in quel caso può essere un'offesa non faccio video da tantissimo lo so non sono molto attivo sul tubo purtroppo però sto lavorando sto facendo dei 3d sto lavorando in campo 3d e quindi mi sta portando via molto tempo anche perché mi devo imparare software da capo in quanto principalmente io utilizzavo after effects però aveva dei limiti e poi cinema 4d ma a questo punto anziché impararmi cinema 4d che aveva comunque era a pagamento a questo punto ho detto perché non impararsi blender che è gratuito e questo mi ha portato via molto tempo perché è gratuito ma è molto complicato da imparare però le potenzialità sono enormi non peraltro sto pensando di fare un tutorial sul come montare i video con blender ebbene si arriverà presto devo trovare il tempo per girarlo poi beh ho la barba ebbene sì perché il giorno di venerdì santo sarò qui ad antignano e sarò apostolo filippo nella via crucis non so se ci siete mai stati è molto bella praticamente non è la classica via crucis in cui cammini è la via crucis in cui si interpreta proprio si rivive il momento si rivive quell'anno in cui c'è stato il disastro nel pianeta qui stava per essere distrutto e c'è tutto il paese che ci partecipa tutto il paese diventa torna indietro nel tempo quindi se riuscite e venite è gratuito è aperto e tutto il paese insomma tutto quanto è allestito come all'epoca quindi fateci un salto sono attivo invece su snapchat su telegram su telegram mi trovate come fra yoshi su snapchat come fra yoshi oppure e scansionando i vari codici che lascio in giro poi la se mi seguite sui social network è scoppiata la primavera non so se aspettate avete visto è primavera fa caldo ci sono 15 gradi e io sono con senza giacca di solito giro con la giacca anche perché fa molto freddo a questo video era in italiano ed è stato montato con blender a presto fra yoshi